Vabbè, vado Forse ho sbagliato Adesso? Ah sì, dobbiamo fare il drone Giusto? Tu dove sei? Ah, il feud Sì Come me li abbiamo spottati Sì, già Bel fatto, il contenitore di vio rischio è stato individuato Panculo, mi ha ucciso Ciao Tu dove cazzo sei? 5 secondi all'inserimento Ma si è piattata bene, non scendere Quale? Qui fallo, no? Vai, vai Hai, lei ha giuso uno, dai Spendiamola qui, aspetta, spacco una cosa Quale spacco? Questa Trovo Sardi Sopra di me? No, sopra di te Come faccio? Cosa devo fare? Il drone è attivo Cazzo lo trovo Io non vedo un cazzo Ma spostiamoci, andiamo via Oh, tempo, tempo Mancano 10 secondi Attività nemica Venite Oh, ho, 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 ho Oddio Io forse No, tu L'ultimo Sì, l'altro l'ho ciso io Io anche ho ciso due Proprio arrasciato di prepotenza Oh cacchio, tutto aperto Sto salendo su, signori, eh Tanto uno non sarà su, sicuro Ma va? Olè No, ce n'era un altro Rotto in culo Tè Twitch dentro comunque Ultimo attaccante Vai, vado dei rushi Io, fan culo Sulla scale, Twitch Dove ho messo la trappola, amorca Rotto in culo Vabbè, tante degli altri Dai che piove, cazzo Navi Era un motorino Modificato anche perché Non lo conosco Ah, lui conosce la gente Dal suono del motorino No, ormai non è che Non ce l'hanno tutti C'erano periodi che non ce l'hanno Nessuno Prima, forse di quelli del 98 Non ce l'hanno Nessuno il motorino Cioè, vuol dirmi che hanno iniziato Prima a drogarsi E che hanno aperto il motorino Sì A voglia Stavo per prendermelo anche io Però ho detto No, aspettiamo la patente ormai Mi sono prantato Ho piegato le forcelle Ho piegato le forcelle Sono andato così forse Non l'ho mai Non l'ho più Cagato Non so, vero Non è No Inserimento tra dieci Ma Dio Comunque, le altre sono Valkyria Ultima Valkyria Ultima Valkyria Filo di Troia, muori Dov'è? In posizione C'è cavera qua da me No In posizione Oh 10 secondi all'inserimento 5 secondi Contenitore di Diorizio individuato Raggiungetelo Cosa? Dai, ma è stupido Mi sono messo a dronare Vai, all'anno già Drona in funzione Spendete la stanza, dobbiamo proteggere il contenitore di biorischio Ho sbagliato io, ti sei messo in mezzo quando ho sparato a lui Mi sei messo in mezzo quando scuola per lui Mi sono messo in mezzo quando scuola per lui Mi sei messo in mezzo In realtà me ne ha rimasto Io vado a controllare il suo Il contenitore di biorischio Ah, vero Ispezione in cerca di nemici Poco No, avevo caricatore Sensore in campo Poco Sensore in campo Ricarico! Ultimo attaccante rimasto in vita Bravo! Vittoria alla difesa! Vittoria alla difesa!